Sabato Gandellino resterà per sei ore senza corrente. La misura è stata presa dall'Enel per consentire alcuni lavori di manutenzione straordinaria alla rete. Il blackout coinvolgerà l'intero centro abitato dalle 9.30 alle 15.30. In paese, però, sono subito scattate le lamentele. Capiamo le esigenze di quanti devono svolgere interventi volti ad assicurare ai cittadini un servizio migliore, spiega il sindaco Tobia Sigillini. Non entriamo nel merito tecnico dei lavori da svolgere, cosa che non ci compete. Rileviamo però che il comune non è stato in nessun modo coinvolto nella pianificazione di questo blackout prolungato, tanto che siamo stati informati dall'avviso diffuso mercoledì in paese, avviso che ha creato malumore anche in molti cittadini che sono venuti in comune a chiedere spiegazioni. A storcere il naso sono soprattutto i commercianti che si troveranno in difficoltà a svolgere la propria attività in un giorno di punta come il sabato. La stessa attività del municipio dovrà essere fermata, aggiunge il sindaco. Sarebbe bastato un incontro e se davvero il distacco di corrente di sabato era indispensabile, si poteva pianificare con maggiore anticipo. Si tratta di lavori programmati già da tempo, rispondono dall'Enel. A svolgerli sarà Terna S.p.A., la società proprietaria degli impianti. Questo tipo di interventi comporta, per ragioni di sicurezza, la necessità di disattivare una linea di media tensione e alcune di bassa. Il distacco di corrente, affermano ancora dall'Enel, è effettuato di sabato perché la richiesta di energia è inferiore rispetto ad altri giorni, in quanto molte fabbriche e attività produttive sono ferme. Purtroppo non si può fare altrimenti, soprattutto quando bisogna coordinare l'azione di diversi soggetti. Ricordiamo comunque che si tratta di un intervento per il miglioramento della qualità del servizio.